Buongiorno, buongiorno a tutti. Anzi, buon anno. Come state? Tutto bene? Voi non salutate. Aspetta, 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 che forse non è ancora in diretta. In diretta, in diretta. Sono certo che in diretta. Ok, perfetto. Mi saluto. Perfetto, saluto anche io. Buon anno a tutti. Allora, questo è il primo incontro. Non tanto non ci vedo fino alla tastiera. Ok. Questo è il primo incontro, credo, di quest'anno, giusto? Quindi la prima diretta caffè elettrico. I due argomenti credo che sia giusto discutere con voi in questa diretta sono questa polemica uscita sui giornali, sui social, della comma 103 dell'articolo 1 della finanziaria che prevede la possibilità di far entrare nella zona ZTL i veicoli elettrici e ibridi, che ha scatenato un casino perché qualcuno pensa che con questa norma i veicoli elettrici possono entrare anche all'interno delle zone pedonali. Secondo me ci sono due definizioni, vero Mirko, sulle zone quali sono? Assolutamente, sono quelle che sono date dal codice della strada perché sostanzialmente le zone a traffico limitato e le aree pedonali sono ben descritte dall'articolo 3 del codice della strada. Ci sono le definizioni. Le definizioni prevedono che le aree e le zone sono due cose ben distinte. Nella finanziaria è ben spiegato che si riferisce alle zone, quindi proprio all'attività dei veicoli, le zone dove i veicoli possono circolare. Chiaramente le aree pedonali non sono assolutamente escluse perché è una cosa ben diversa. Però forse è meglio che il Ministero, come anche dichiarato il sottosegretario Cripp dell'Orco, immediatamente faccio una specie di circolare autentica e interpretativa in modo tale che si chiarisca una volta per tutta questa polemica perché è ovvio che noi che siamo i fautori della mobilità elettrica, siamo quelli che in questi dieci anni si sono sbattuti come delle tigre per avere questa possibilità, non siamo per niente d'accordo a far entrare nelle aree ZTP, zona traffico pedonale, veicoli elettrici. Dove ci sono le zone pedonali vanno soltanto le biciclette, forse elettrici, meglio elettriche, e si va a piedi. Le macchine non devono entrare. Anche perché sono esclusi. Sì, perché sono esclusi per definizione, anche perché il regolamento, il codice della strada proprio lo definisce. Le aree pedonali sono cose diverse dalle zone a traffico limitato, quindi essendoci questa distinzione già in definizione non ci dovrebbero essere grossi problemi, però chiaramente dato che lo Stato è quello che fa le leggi, forse chi le interpreta sono un po'... non è detto che sia... Pensandoci adesso, io sono convinto, visto che non c'è nessuno che sia collegato, a parte una persona che saluto, che forse la gente è abituata ad andare sull'altro sito, se l'altro gruppo, quindi il gruppo di classe on, se non su questo. Forse è meglio riprendere la trasmissione, Mirko, dall'altra parte? Ma secondo me... vediamo se riesco a condividerlo al volo. Comunque a me piacerebbe capire cosa ne pensate di questa polimica che... No, Marco Schillacci per esempio l'ha visto. Ma no, automatico va su tutti. Però vediamo, cioè nel senso dobbiamo farli venire... Ma qualcuno ha già risposto, Giancarlo. Ciao ragazzi, ciao a tutti. Quindi, su questo argomento legato all'articolo 103, comma 103 dell'articolo 1 della finanziaria, come hanno chiesto anche alcuni sindaci e comuni metropolitani, occorre che il governo vada al più presto a definire una circolare. Però io sono, come diceva prima Mirko, convinto che le due aree, la zona traffico limitato, pedonale sia una cosa e ZTL sia un'altra. Quindi la normativa che hanno in qualche modo modificata riguarda solamente le zone ZTL. Sì, assolutamente. Anzi, un riferimento dal riferimento, basta cercare il codice della strada, sull'articolo 3, definizioni stradali e di traffico. Quello che ci riguarda sono il punto 2, dove c'è la definizione di area pedonale, zona interdetta alla circolazione dei veicoli, salvo quelli in servizio di emergenza, però chiaro l'ambulanza ci deve arrivare, nonché eventuali di erochi dei veicoli ad emissioni zero, aventi ingombro e velocità tali da poter essere assimilati ai velocipedi, quindi chiaramente non le auto elettriche. Questo che articolo è? È l'articolo 3 del codice della strada. Quindi secondo me è proprio palese, palese. Io ho visto in circolazione gente che si lamentava di questo articolo, ma è banale perché basta prendere il codice della strada, la definizione non è chiara, è più che chiara. E poi invece la ZTL, la definizione che è sotto, la ZTL, aspettate che la trovo. Vediamo dov'è, interessa, ma... Comunque, siccome anche forse in maniera strumentale questa polemica sta venendo fuori in maniera particolare, credo sia giusto chiarire anche da parte del governo cosa voleva intendere con quella, con quel comma. E da parte nostra ovviamente arriva a dire il fatto che dove si va a piedi, si va a piedi. Cioè non esiste la possibilità di andare con la macchina elettrica in zona dove si va soltanto a piedi. Sì, anche perché sarebbe stato un assurdo, cioè... Io mi ricordo una volta, ho fatto una polemica con dei possessori della Tesla che si, come dire, galvanizzavano che erano andati in montagna a 3.000 metri in una zona dove era vietato se non camminare con le proprie gambe in montagna. E loro si gasavano che erano andati con la macchina elettrica. Dormai è una stupidata. La macchina elettrica non è che ti permette di fare qualunque cosa. Esatto. La macchina elettrica è un modo di vivere diverso dove ovviamente ti fa risparmiare parecchio inquinamento e dall'altra parte però non è che chi ha la macchina elettrica è un dio. Chi ha la macchina elettrica è un dio nel senso che risparmia sul piano ambientale ma è una persona come tutte le altre. Quindi le regole valgono anche per chi ha la macchina elettrica. Ecco, per la definizione di zona traffico limitato, sempre l'articolo 3 del codice della sta alla zona traffico limitato. È un'area in cui l'accesso e la circolazione dei veicoli sono limitati ad ore prestabilite o a particolari categorie di utenti e veicoli. Partire qualcuno si sta scrivendo? Tu che sei più vicino al... Pochi. Mark dice che hanno commesso un errore grossolano. Forse si sono sbagliati con l'isola ambientale, mi viene il dubbio. L'isola ambientale è quella parte di porzione di città che viene riqualificata con ZATL, isole pedonali e altre particolari cose che permettono la circolazione limitata, ma sono comprese e quindi possono coesistere. Perciò magari in un ZATL tu puoi entrare, ma puoi certamente andare nell'isola pedonale che però è compresa all'interno dell'isola ambientale. Esatto. Infatti tante volte, quando si fa in questi casi urbanistica, l'area è un qualcosa di omogeneo, mentre le zone possono anche essere differenti. Beh, comunque, visto che il governo, attraverso i due sottosegretari, hanno dichiarato la loro volontà di andare a spiegare meglio questo articolato, lo faranno. Abbassiamo con ansia quello che hanno da dire. Ribadiranno quello che abbiamo già detto noi, quindi alla fine. Per adesso sono in meno persone rispetto a quelle che avevamo previsto. Anche perché io non ho capito una cosa. Per la prima volta l'abbiamo fatto sulla pagina di Class Olmos e non sul gruppo. Forse è meglio andare a farlo sempre sul gruppo, questa trasmissione. Chi è in diretta adesso cosa ne pensa? È meglio fare la diretta su questa pagina oppure è meglio andare sul gruppo? Oppure la gente stamattina non è collegata e quindi... Perché sono tornati al lavoro, quindi... Può darsi. Adesso penso che comunque gente ce ne sia online. Non ho visto quanta, perché ci siamo connessi proprio... Vediamo. Il problema di Roma, che i pentastellati hanno... Sì, è ovvio che hanno un po' di difficoltà, visto che sono nuovi nel palazzo del potere. Per cui... E a volte si fidano per certi versi troppo di chi sta facendo delle cose e poi si trovano degli articolati, dei comma che ovviamente nemmeno loro pensano di in qualche modo scriverlo. Cioè io non credo sinceramente che c'è la volontà politica da parte di questo governo e del Movimento di 5 Stelle di far entrare nelle zone, anzi nelle aree a traffico escluso, esclusiva... Si sono sbagliati sicuramente. Si sono confuso, hanno confuso. Comunque, su me la volontà politica di modificare o meglio di interpretare in maniera autentica questa comma, vediamo nel prossimo giorno. Anche perché il governo, anche per quanto riguarda i decreti attuativi dei commi che è collegato all'incentivo della mobilità elettrica, ha deciso di convocare questo tavolo tecnico nei prossimi giorni. E quindi all'interno di quel tavolo tecnico questo argomento sarà sicuramente sollevato. Quindi io farei così. Su questo argomento lascerei perdere un attimo perché siamo tutti d'accordo che è una stupidata a fare entrare in piazza del Duomo a Milano la macchina elettrica e quindi... Anche perché sarebbe un passo indietro, no? Stiamo cercando di andare verso la pedalizzazione e facciamo entrare nell'elettrico, è un po' un controsenso. Ma infatti il paradosso, adesso qualcuno mi ammazza chi è la macchina elettrica, io sono contrario a dare dei privilegi per far entrare nella ZOT, anche nelle ZTL, i veicoli elettrici. Perché una macchina elettrica ingombra come una macchina normale. Casomai io darei un grande incentivo a chi usa la macchina elettrica nelle aree metropolitane, arriva ai parcheggi. Nei parcheggi gratis parcheggio, si ricarica gratis e poi usa in esodo pubblico. Per cui noi chiederemo all'ATM di fare entro il prossimo anno una politica dove incentiva nei parcheggi interscambio, gomma su ferro, che ce ne sono parecchi, Cologno, Rozzano, Assago e gli altri posti, dove chi usa la macchina elettrica può parcheggiare per un po' di tempo gratis, ha le sue ricariche elettriche gratis e poi automaticamente usa il mezzo pubblico per poter andare in città. Io invece sono un po' dalla parte dell'elettrico, sono un po' più che i privilegi debbano essere temporaneamente dedicati all'attività delle auto elettriche per maggiormente diffondere un po' anche questa cosa, perché purtroppo la mobilità elettrica non esiste. Anche tu dici c'è lo spazio di un'auto elettrica, sì però se c'è l'auto elettrica, se ci fosse questo problema magari... Però, per il discorso di prima Mirko, chi ha la macchina elettrica non deve sentirsi un privilegiato rispetto... No, solo per l'inizio, solo per quel lasso di tempo, quando saranno tutti elettrici è chiaro che non ci sarà questo privilegio. Ma sai cosa vuol dire? A Milano entrano circa 500 mila persone al giorno per lavorare. Avere gratis il parcheggio nell'area di interscambio e le ricariche gratuite. Cioè vuol dire che per ogni possessore edicolo elettrico risparmerebbe circa 10 euro al giorno, che per 5 giorni a settimana sono 200 euro al mese. Perché ovviamente alla fine non si ricarica poco a casa, si ricaricherà in queste aree. Avrà il parcheggio gratis, il parcheggio costa da un euro a un euro e mezzo all'ora. Sta lì almeno 10 ore, quindi sono 15 euro. Quindi il fatto di privilegiare, non sul fatto di fare entrare, cosa che adesso non ci mancherebbe altro, adesso è giusto che ci sono poche macchine elettriche. Quindi dare un segnale al mercato sia opportuno. Per lo meno all'inizio. Però guardate che è molto più importante far vedere che chi ha la macchina elettrica ha dei privilegi non importanti, anche sul piano economico, ma collegati soprattutto all'utilizzo reale della macchina. Io che abito a Carugate, prendo la mia macchina elettrica, vado a Colomio Nord, ho il mio parcheggio riservato, la mia ricarica è riservata, non la pago per un po' di tempo e prendo la metropolitana per andare a Milano. Ecco, un'altra cosa. Io aggiungo che deve essere anche facilitato l'iscrizione a questi tipi di privilegi perché, se per essere sincero, Milano, io non posso, io pago, dovrei pagare il parcheggio. Nel senso, anche se ho l'auto elettrica devo per forza pagare. perché devi comunque andare in comune, devi fare tutto a compilare le carte, devi pagare il bollo, eccetera, eccetera. Quindi non è proprio semplice. Vabbè, vediamo un po' cosa dico, cosa si dice. Si pagano i bolli del bus, si, hai ragione fiume, si pagano, non ha senso, cioè nel senso se tu vuoi facilitare un tipo di discorso elettrico sulla mobilità sostenibile, eccetera, eccetera, cioè perché devi far pagare i bolli, cioè per un'autorizzazione che non ha, basta sapere che è elettrico, lo sai subito, tutte, qualsiasi vigile in grado di un palmare, c'è di un palmare, scusate, di un iPhone piuttosto che di un smartphone, tranquillamente può vedere se è un'auto elettrica o no. Quindi mi sembra, mi sembra proprio inutile fare questo. Basta guardare se c'ha lo scarico meno. Beh sì. Basta vedere se c'ha il... Per tagliare l'argomento, anche perché poi abbiamo un altro argomento da discutere, è ovvio che in questo momento il fatto di far entrare gratis nelle zone ZTL e non far pagare il parcheggio nelle strisce blu e gialle è una cosa sacrosanta, giusta, per far partire il mercato. Quando il mercato sarà maturo e grazie agli incentivi credo che ci avrà ancora massimo 3-4 anni, in quel caso è ovvio che non possiamo pretendere di avere sempre gratuitamente il pagamento gratuito dei parcheggi perché la cosa migliore da fare nelle città importanti come Milano, Roma, Torino, Firenze non è andare con la propria macchina elettrica in centro, ma usare i mezzi pubblici. Certo. Usare i mezzi pubblici e avere la possibilità di parcheggiare e ricaricarsi nelle aree di interscambio. Questo credo che è la cosa che bisogna fare e richiedere alle pubbliche amministrazioni. Di fare in modo che in tutte le aree di parcheggio e di interscambio, in periferia, collegato al mezzo pubblico locale, ci sia dei parcheggi riservati e delle colonne di ricarica dedicate. C'è avere una logistica migliore di quella che è adesso perché purtroppo il mezzo pubblico è un po' distrattato. Partirei sotto di qualche altra domanda? No, vedi che la barra è qua. Sì, per rendere sostenibile, ciao Fabio, per rendere sostenibile l'auto elettrica ci vorrebbe anche la produzione dell'energia forniterino-babile, esattamente, è quello che sosteniamo è assolutamente quello che sosteniamo noi da tantissimo tempo. Chiaramente, attualmente in Italia siamo già a buon punto, è solo una questione di scelta del governativo, mentre la benzina non si può scegliere se è più o meno verde, l'energia elettrica è possibile produrla da fonte rinnovabile, ottimizzandola anche in senso verde. Per esempio, il sottoscritto riesce a quantificare intorno al 70-80% delle mie ricariche da energia verde, sicuramente verde, perché tramite direttamente dal mio impiatto fotovoltaico. Bene, se ci sono altre domande... Vuoi affrontare l'altro argomento che volevi? No, l'altro argomento che ho visto stamattina sui social, la discussione sul prezzo delle ricariche da parte delle colonne pubbliche di Enel. Può far vedere qualcosa delle colonne... No, nel senso che forse non è l'argomento che bisogna affrontare in due minuti. No, forse ci lo rimandiamo al lunedì prossimo, perché credo sia opportuno e giusto riprendere l'argomento su come sono composti i costi collegati alla ricarica dei veicoli elettrici. Da parte dell'autorità per il Gepa e il Gas ha indicato quali sono i costi per il dispacciamento in tutto il trasporto e poi ovviamente capire cosa significa il roaming tra le diverse aziende che in Italia ormai stanno operando in parecchie zone. Però credo che l'argomento sia opportuno e giusto rifarlo e ridiscuterlo con più calma la prossima settimana. Lancio una piccola provocazione magari per la settimana prossima. Io sarei contentissimo di pagare da utente e autore una ricarica veloce, in certe occasioni chiaramente, non in tutte. Quindi sarei anche contento di pagare un euro al kilowattora per assurdo, perché ne vale la pena. Se ce n'ho bisogno, ce ho bisogno. Assolutamente sì. Soprattutto in autostrada, perché mi piacerebbe andare giù a Roma in auto elettrica, da qualsiasi parte, non con tragitti obbligati, no? Bene, buon anno. Buon anno a tutti. Ciao a domenica prossima. Alla settimana prossima. Ciao a tutti. Grazie, grazie.